IFA 2022 siamo allo stand di Asus e abbiamo rubato e ce lo porteremo anche a casa un Asus ZenBook 17 Fold OLED che è il pieghevole di Asus, il pieghevole PC, cioè questo è un PC con Windows 11 e io posso fare questa cosa qui e già così è meraviglioso ma abbiamo uno schermo OLED da 17,3 pollici come avete visto assolutamente pieghevole ma tanta attenzione anche per quanto riguarda le prestazioni perché a bordo arriviamo processori i7 dodicesima generazione della serie U fino a 16 gigabyte di ram e fino a un terabyte di memoria interna io lo adoro la cosa che preferisco anzi in realtà sono due la prima è che quando lo piegate fa la giusta resistenza cioè non è troppo morbido e non è neanche troppo duro è la giusta via di mezzo che da quella sensazione di solidità cioè il prodotto sembra davvero ben costruito e tenete presente che quello che abbiamo noi è un sample quindi non è neanche la versione super finita ma già ci è piaciuto un sacco in più abbiamo lo stand che è incluso quindi vuol dire che posso fare assolutamente questa cosa qui quindi potete usare tutto lo schermo da 17,3 pollici senza aver bisogno di accessori esterni che lo tengono in piedi per voi associata vedete c'è anche la tastiera una tastiera bluetooth che potete usare comodamente in questo modo quindi volendo potete anche stare sul divano con il display posizionato da qualche parte e la tastiera sulle ginocchia oppure potete fare un'altra cosa la tastiera è magnetica quindi la collegate in un nanosecondo praticamente al corpo del computer e la schermata passa nella parte superiore lo usate come se fosse praticamente un piccolo laptop da 12,5 pollici non vediamo l'ora che arrivi in Italia accadrà nel Q4 quindi alla fine praticamente di quest'anno partire da 3.299 euro e questo intanto lo rubiamo tra l'altro si chiude con la tastiera dentro quindi abbiamo già tutto perfetto io vado ciao